Il pronostico di gara vedo un mattacchioni abbastanza in forma. Prima corsa Michele Bastenella, terza partenza Peppe Negro. Custandini, io. Soldi e di Prospero. Perza fascia Negro, prima mattacchioni. Io spero di fare un bel risultato, però ci sono parecchie persone molto forti, tipo Peppe Soldi, Napoleone. Io spero almeno che si fanno via a fuga, di entrare con loro e poi fare un bel risultato se si riesco. Oggi il vincitore sarà sicuramente Davide Mattacchioni. Anche perché è il più veloce di tutti. Senior Massimo Veloso perché io fa paura nell'intervista. Prima partenza Caciotti Ivo, penso che sia uno dei favoriti. Avanti i mattacchioni. Dietro Soldi. E la terza fascia. Alberto Assoffi, vai. Buongiorno. Buongiorno. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti